Secondo tempo. Ma ragazzi, cos'è che vi intriga così tanto? Alessia, la 48409 Compilation, la raccolta con ben 26 suonerie Eats. Ne trovi una per ogni lettera dell'alfabeto. Stiamo scaricando la nostra preferita ed è semplicissimo. Basta inviare un SMS con l'iniziale del pezzo scelto al numero 48409. Guarda, ti faccio vedere. Invio dal mio telefonino Nokia un SMS con l'iniziale del pezzo scelto, ad esempio F che sta per fuori dal tunnel, al numero 48409. E sentite un po'? Bella, eh? Fantastico! E pensa che nella 48409 Compilation trovi anche Obsession e l'italiano medio. Shut up, il grande fratello. Proviamo, a me piace moltissimo Dragostea, quindi invio un SMS con la lettera D che corrisponde a Dragostea, al numero 48409. Grande, facilissimo davvero! E alla pagina 655 di Media Video trovi le super suonerie polifoniche, l'inno della Champions League e scopri come vincere cellulari Ayer P5, pratici di dimensioni ridotte e leggerissimi. 09 il tuo mondo in 10 tassi. Se hai 3 si vede! Ah sì? Dai, dai, racconta! 3 presenta Tuamatic, l'autoricarica che nessuno ti dà. Per ogni minuto di chiamata ricevuta ti ricarichi di 5 centesimi. Tu, con la forza di 3. Bella festa ieri, vero? Mm-hmm. E anche stavolta abbiamo fatto tardi. Con Nivea 4 Men Crema Q10, la pelle affaticata ritrova energia e tono ogni giorno. Non capisco perché ti fai tutto questo. Nuova crema Q10 rivitalizzante. Energia pura per il tuo viso. BMW Serie 3 con nuovi allestimenti. A partire da 180 euro al mese. Impossibile non è un fatto. È solo un'opinione. Come quando dicevano Lascia perdere, Ali. Non combattere contro Sonny Liston. Ti distruggerà. Così come quando mio padre guarda negli occhi l'impossibile e lo sconfigge. Come pensi che reagisca io quando mi dicono che la box non è uno sport da donne? Dateci dentro, ragazze. Dateci dentro. Tutti vogliono Alice. Specie adesso che accelera gratis fino a 640 kilobita al secondo. Però, vedi bene? Ma, sto imparando. Cosa sei disposto a fare per un'estrema sensazione di freschezza? Da oggi, nuovo Philly Shave Cool Skin con lozione Nivea for Men. Creato per risvegliare la tua pelle. Non lo sai che con un tappo di Karsberg si vola in due agli Euro 2004 per premiare in Man of the Match? Karsberg, vire ufficiale Euro 2004. Buongiorno, caro. Buongiorno. Se hai provato una crociera a Costa è difficile tornare alla vita di tutti i giorni. Costa Crociere. La vacanza che ti manca. La grande festa Vodafone continua. Fino a 31 marzo puoi bere tutti i cellulari Vodafone a 30 euro in meno. Vodafone. Tutto intorno a te. Fermet Branca Più unico che amaro. Di lei ci si innamora da bambini. Per lei battono il cuore. Per lei si piange. Si ride. Per lei l'Italia trattiene il fiato. Esplode. Per lei la maglia azzurra. Acquista Nutella e scopri il codice sui vasetti. Puoi vincere il kit completo del tifoso e un maxi TV Color Samsung al plasma da 42 pollici. Nutella alimenta lo sport. Caccia aperta il testimonial. Infostrada cerca il testimonial per la sensazionale offerta. Happy Night. Happy Night. Chiami gratis da casa in tutta Italia dalle 8 di sera alle 8 del mattino. Chiama Infostrada al 159. Chiama Infostrada al 159. Milan-Sparta-Praga Un appuntamento FORN Sponsor UEFA Champions League